Una partita spettacolare, in effetti Atalanta-Sampdoria come sostiene il direttore sportivo Blu Carchiato una sfida tra due squadre che prediligono l'attacco, la difesa, specchio delle filosofie dei due allenatori Gasperini e Giampaolo. L'anno scorso fu la Sampa a trionfare sia Marassica a Bergamo una doppietta che poteva aprire la strada all'Europa League dove però ci andarono i nero azzurra. Insomma il valore delle due formazioni è alto, in questa stagione sono partiti meglio a Udere e compagni 11 punti contro i sedi dell'Atalanta, pure eliminati proprio dall'Europa. In più l'appuntamento di domenica alle 15 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia è già stata accompagnata pure da polemiche. L'Atalanta infatti ha perso Firenze e Nerazzurri con in testa al Gasper se la sono presa, non senza ragioni, con l'arbitro e con la VAR. La Sampa a questo punto chiede un arbitro importante per non farsi condizionare da un ambiente surriscaldato ed è stato scelto in Rati di Pistoia.